Non è successo proprio nulla, Stefano è molto bravo, è talmente bravo che anni fa gli abbiamo assegnato sia la parrocchia di San Donato, poi serviva in ospedale qualcuno che rispondesse alle necessità del nostro tempo e Stefano aveva tutta la preparazione e attitudine per farlo. Sono due cose che sono cresciute, cresciute, cresciute e a un certo momento... Il trasferimento di Don Stefano Scarpelli dalla chiesa di San Donato negli ultimi giorni aveva creato scalpore. A farsi sentire erano stati gli stessi fedeli che chiedevano a gran voce la conferma del sacerdote, richiesta però caduta nel vuoto. E' infatti lo stesso vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Riccardo Fontana ad annunciare lo spostamento al bagnoro anticipato come quello di tutti gli altri parroci affinché siano già operativi a San Donato come richiesto direttamente dal Valdicano, un'indicazione per evitare la sovrapposizione con la nomina del successore del vescovo stesso. Il Consiglio Episcopale hanno ritenuto di confermare Stefano nell'impegno dell'ospedale e di affidare una comunità più piccola, prestigiosa al massimo, e la pieve di San Teucenio al bagnoro e la chiesa che storicamente è stata retta sempre dai preti più accreditati, più bravi. E' stato poi annunciato il trasferimento anche di altri 14 parroci all'interno della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro. L'annuncio del successore di Monsignor Fontana invece dovrebbe essere non prima di agosto. Io finché campo resto aretino e a pieno titolo aretino. Certamente quando uno è vecchietto come me, che ho 75 anni, è bene che faccia fare la parte di responsabilità più grossa che c'è in una chiesa locale, cioè il vescovo e l'esercizio delle funzioni del vescovo, se lo scelga il Papa uno viene a fare quello che ho fatto io per 13 anni.